Analisi della situazione politica in regione e a Bari, arroventata dalle grane giudiziarie nel dibattito di ieri sera a Controvento. Per Bari, travolta dall'inchiesta e sotto la lente della Commissione Antimafia, l'incognita amministrative vede tre candidati sindaco. La Forgia e Leccese, separati in casa centrosinistra, Rumito, nome del centrodestra unito. In regione, per Emiliano, c'è la matassa giunta da sbrogliare dopo il diktat di azzeramento della Presidente PD Schlein e la maggioranza perde pezzi con la fuoriuscita forzata dei 5 Stelle, le dimissioni da Con del capogruppo Tuputi, le autosospensioni dei DEM Caracciolo e Mazzarano, le eterne bizze di azione. Un'amministrazione corretta ed un buon padre di famiglia, come deve essere il sindaco o il Presidente della Regione, si interrogano e guardano al proprio interno. Ovviamente sulla figura di Antonio De Caro e quella di Michele Emiliano non ci sono ombre di dubbio perché sono due figure specchiate. Da buon padre di famiglia il Presidente Emiliano avrebbe per un attimo dovuto fermarsi forse un po' prima, quando Fratelli d'Italia e il centrodestra più in generale in Consiglio hanno più volte sollecitato ed evidenziato alcune situazioni che evidentemente non facevano l'interesse dell'ente regione e che non facevano l'interesse dei cittadini. Ci sono state delle anomalie che sono successe in questi anni perché quando abbiamo preso le carte per esempio dell'ospedale Infiera noi non siamo stati ascoltati, da 9 milioni di euro era arrivata a 23 milioni di euro. E allora là a proposito dei collaboratori di Emiliano sappiamo cosa è successo poi all'erario. Ma questo metodo Emiliano è alle corde? Cos'è il metodo Emiliano? La capacità di aggregare forze politiche? Immaginiamo se noi non avessimo avuto Emiliano in questa regione, il centrosinistra avrebbe prevalso in tutte le elezioni che si sono tenute negli ultimi vent'anni anche a Bari e alla regione, credo di no. Il modo di fare politica di Michele Emiliano che imbarca trasformisti, gente a prescindere delle, senza preoccuparsi, condividano una visione, gente che è portatrice di un certo numero di voti, una politica per aggregazione di voti, è una politica non compatibile con il Movimento 5 Stelle e che poi tra le generazioni che produce purtroppo c'è anche quello che abbiamo vissuto in questi giorni.